Procedono spediti i lavori di messi in sicurezza del braccio nord del porto di Giulianova che dovrebbero terminare tra qualche mese. Nel frattempo la regione ha deliberato per il porto giuliese 3.800.000 euro, uno stanziamento che sarà destinato al completamento della scogliera nord di protezione della nuova imboccatura del bacino portuale. L'intervento è inteso come prosecuzione dell'opera individuata come stralcio di un intero lotto relativo alla realizzazione della diga Frangifrutti Nord. Il rispetto dei termini credo che sia sotto gli occhi di tutti. I lavori proseguono, lavorano anche il sabato e la domenica. Gli operatori della ditta che ha in appalto questo lavoro per il completamento, per la messa in sicurezza di questo braccio a protezione dell'ingresso nord del porto. Abbiamo appreso proprio l'altro ieri che la regione finalmente ha stanziato questa somma di 3.800.000, il sottosegretario D'Annuntis ha annunciato questo stanziamento di 3.800.000, dei quali 2 milioni serviranno per il termine dei lavori, quindi l'allungamento di ulteriori 87 metri dell'opera, di quest'opera che è alle nostre spalle, quindi con il posizionamento del faro verde alla fine del braccio. Un milione e otto invece saranno destinati al molo sud per il rifiorimento dei massi. Un'altra cosa importante su cui state lavorando è il bando regionale per fare altri tipi di interventi. Sì, il 30 marzo scade un bando regionale che ha messo a disposizione dei quattro porti abruzzesi un milione di euro. Noi parteciperemo per realizzare delle tettoie a protezione degli operatori della piccola pesca e poi dobbiamo realizzare una sede operativa per il cogevo sopra la banchina nord del porto di Giulianova. Si sta anche lavorando insieme al Comune e altri enti per organizzare delle iniziative proprio all'interno del porto? Sì, compatibilmente con l'emergenza Covid speriamo che quest'estate riusciremo a riavviare tutta una serie di iniziative, a replicare iniziative che sono state fatte negli anni precedenti, il tutto per promuovere il turismo all'interno del nostro porto. Grazie.